Davide è una vittoria da ex, fa sempre piacere, forse anche doppiamente piacere. Sì, è stata comunque una bella emozione giocare contro la mia squadra, contro la mia precedente squadra, è stata una bella emozione e sono molto contento per il risultato. Una vittoria meritata non soltanto per il carattere, ma anche per la prestazione. Per quello che stiamo facendo durante tutta la settimana, tutti i giorni, tutti gli allenamenti, è meritata, sì, poi soprattutto anche per quello che abbiamo fatto vedere in campo. A questo punto non è necessario continuare su questa strada, ma risfruttando i due turni caseringhi consecutivi. Sì, dobbiamo continuare su questa strada, è una strada che abbiamo già intrapreso, ci siamo stati un po' sfortunati a livello di punti e di risultati, però è una strada che abbiamo scoperto e dobbiamo percorrerla e continuare.